Un grandissimo entusiasmo, è una piazza che conosco, avendo fatto il giocatore qua, quindi è stimolante, trovo una società seria per cui ti dà la possibilità di lavorare bene e questo è secondo me molto, soprattutto in questo momento attuale, trovare una società che ti dà la possibilità di lavorare in questa maniera qui che ci rende felici e cercheremo di mettere tutto il nostro meglio per riuscire a ottenere dei risultati importanti. Non è facilissimo ripetersi, l'ho detto perché non è facilissimo ripetersi, però anche il cambiare un pochetto diversi giocatori probabilmente serve anche per trovare delle motivazioni diverse, quindi motivazioni nuove. Quindi sono contento di essere qui, sono convinto che si possa fare bene, sono convinto che i ragazzi che abbiamo interpellato ci possano dare una grossa mano e quindi si andrà avanti in questa maniera qua. La punta centrale mi sembra che sia fondamentale, terzino sinistro si era già parlato, il centrocampista centrale è un altro giocatore che probabilmente servirebbe. Manacari può giocare dappertutto, può giocare anche di là, anche interno sinistro, quindi può giocare dappertutto. La piede è invertita, io l'ho visto giocare dappertutto e lo fa bene dappertutto. Umberto Cazzola è lo stesso, è un giocatore che può giocare come quinto, può giocare esterno in un 4-4-2, quindi la fortuna di avere questi giocatori che possono. Queste soluzioni a me piace molto, come idea di calcio che ho io mi piace molto. Poi è chiaro che dopo il momento in cui trovi una soluzione che ti aggrada, che ti soddisfa, che vedi che hai dei risultati, dopo muovi il meno possibile.